Ciao amici, siete proprio fortunati a conoscermi, non solo perché sono lo studente più in gamba di tutta la scuola, ma anche perché sono l'unico che sa quello che succederà nei prossimi episodi. Cosa? Volete le prove? Ok, eccole, numero uno! Link appunterà sfide impossibili, o no, ed estremamente pericolose, in cui anche io rischierò la vita. Numero due! Io vorrei dare ancora più geniali. Puzzette! Non so, sembra impossibile, ma vi assicuro che andrà proprio così. Numero tre! Anna troverà nuovi modi per conquistare Justin. Quella ragazza è quasi più creativa di me. Si sta stringendo troppo? No, no, continua così. Ma poi, Nick, cosa è successo? Tutti zitto! Se ti scoprono... Inca, sì! Subito! Cosa stava per dire, Rudy? Scoprilo nei nuovi episodi di New School! Da lunedì 8 gennaio alle 18, in Prima TV, solo su Dea Kids! E ora... Bello! Spesso? Un posto! Un posto! 5 gennaio alle 18, in Prima TV, anche a Patti!